Più che mai Andrew e Toby sono più vicini a tornare nel loro luogo di Spider-Man Infatti ragazzi, praticamente in questi giorni ci sono molti rumor di molte testate comunque importanti Di un certo calibro comunque, che stanno praticamente continuando a dire Continuando a dire che Andrew Garfield e Toby Maguire potrebbero tornare Non solo in Secret Wars, vabbè, ma potrebbero tornare con il personaggio di Spider-Man In, diciamo, nei loro film, nei prossimi anni E addirittura che magari nei prossimi mesi, insomma, nelle prossime settimane Addirittura potrebbero annunciare qualche film proprio su Toby e Andrew Quindi magari uno Spider-Man 4 con Toby, uno dei mesi in Spider-Man 3 Non è nulla di ufficiale ovviamente perché ragazzi, questi rumor non sono mai ufficiali Però i rumor ragazzi portano sempre a qualcosa Fidatevi di me, i rumor portano sempre a qualcosa Tra l'altro tra poco c'è un evento Sony molto importante Nel quale, perché no, potrebbero annunciare qualcosa di figo per Spider-Man 4 e dei mesi in Spider-Man 3 Inoltre ragazzi, come se non bastasse, Sam Raimi ha detto recentemente che Vorrebbe, comunque, sarebbe disposto ovviamente a dirigere un altro film su Spider-Man Su Spider-Man con Toby Maguire E lo stesso Toby Maguire in un'intervista che ha fatto per Spider-Man New Home Di cui adesso soltanto stanno uscendo però le, diciamo, le dichiarazioni Ha detto che sarebbe ovviamente disposto a tornare per fare un Spider-Man 4 Quindi tornare nel ruolo di Spider-Man e fare un altro film Quindi ragazzi, quindi ragazzi Effettivamente può succedere di tutto Ma veramente di tutto ragazzi Cioè siamo nel momento forse più critico della situazione Perché in questo momento veramente può succedere qualcosa Cioè in questo momento veramente possono trovare degli accordi Ragazzi, potrebbe succedere veramente qualcosa di interessante Quindi seguiremo tutto quanto molto attentamente Non appena ci sarà qualche news, subito ne parlerò ragazzi Ma mi raccomando, state sintonizzate sul canale Perché ragazzi, queste news sono importantissime Sono veramente importantissime Già se avrei parlato di un possibile di Spider-Man 3 Nei mesi passati Ci ho fatto anche un video Il problema è che Andrew vuole fare un bel film E adesso si sta iniziando a parlare anche di Spider-Man 4 Cioè si sta iniziando a parlare Se ne parlava già da quando è uscito Spider-Man New Home Però si sta iniziando veramente tanto frequentemente a parlare di Spider-Man 4 E di Spider-Man 3 E quindi ragazzi, magari questi potrebbero essere Anche soltanto rumor Ma potrebbero essere rumor con un fondo di verità Io ragazzi spero vivamente che noi li vedremo di nuovo al cinema In loro film stand alone Perché sarebbe bellissimo E anche perché Andrew si merita una trilogia E niente ragazzi Niente ragazzi Io veramente Sono veramente troppo troppo in hype Ci vediamo in un prossimo video Lasciate un like, iscrivetevi E ciao ciao ragazzi Ciao ciao